Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video nato un po' di getto così in seguito a un altro episodio molto molto grave per quanto riguarda il mondo dell'arte e parliamo di arte, non di business. Anche se purtroppo i due mondi troppo spesso coincidono e adesso cerchiamo di snocciolare un po' la questione. Cos'è successo? Johnny Depp è stato licenziato. Warner Bros ha licenziato Johnny Depp da Animali Fantastici all'interno del quale Depp recitava Grindelwald in seguito alla sconfitta di Johnny Depp nel processo contro il The Sun che nel 2018 lo ha definito un picchiatore di mogli. Processo all'interno del quale il giudice ha stabilito che il The Sun avesse effettivamente delle ragioni per definire Johnny Depp con queste parole. Dunque, che cosa viene da pensare? Immediatamente viene da pensare che, caspita, se una produzione del calibro della Warner Bros è disposta a licenziare la propria punta di diamante in nome di cosa? Di quale legge morale? Di quale etica imposta da chi? Dalla società? Da una società eccessivamente moralista? Da una società che è sempre di più vittima di questo politicamente corretto che sta divorando di fatto la qualità nel mondo dell'arte? Ecco, se una produzione è arrivata al punto di essere disposta a fare questo, c'è un problema. C'è un problema perché se l'opinione pubblica influenza così tanto i produttori, le case cinematografiche, ma anche discografiche, insomma, le case di produzione che si occupano di produrre materiale artistico, diciamo così, ecco, non stiamo più facendo arte. Stiamo facendo politica, stiamo facendo mercato. Il mercato dell'arte è già, questa associazione è orribile, ecco, diciamo, il mondo dell'arte troppo spesso è soggiogato al mondo del mercato. E bisogna fare attenzione perché allora non stiamo più parlando di opere d'arte, perché con queste manovre a rimetterci è proprio l'opera stessa. Perché essere un bravo attore non è un merito, è un dono. Se l'attore è una persona orribile, a noi non deve importare, perché a noi da fruitori dovrebbe interessare solo di poter assistere a un'opera che possa dare il meglio di sé attraverso un bravo regista, un bravo attore, un bravo produttore, che possono essere purtroppo per loro e per le persone che ci vivono insieme anche brutte persone. Ecco, questa è una dinamica che non capisco per quale motivo non venga ancora accettata, ma ci arriveremo tra poco. Se un'opera tuttavia deve essere vincolata a delle leggi morali o etiche non scritte, ecco, questa cosa è già stata fatta in tempi molto più bui di quelli che stiamo vivendo, politicamente parlando. E questo mi fa molta paura perché l'arte, da definizione, dovrebbe essere l'espressione massima della libertà di un essere umano all'interno della quale questo si racconti nella maniera più libera e personale possibile, secondo me, al fine di trovare un'empatia, di agganciare, di costruire un'empatia con il fruitore per la quale questo possa sentirsi anche meno solo al mondo. Però questa è la definizione che do io di arte, se volete vi rimando al video che ho fatto in cui ve la spiego. Questo è un altro discorso. Ma più che mai, quando leggo di queste notizie, mi viene in mente di quanto sia importante scindere arte e artista. perché, ecco, se dovessimo metterci a giudicare chi possa meritarsi e chi no di ricoprire un certo ruolo, come di fatto la società sta facendo, dovremmo anche essere disposti a rinunciare a Guernica, in quanto Picasso era notoriamente un misogeno, un violento. Ma che cosa vuol dire? Solo per questo io non mi sento di rinunciare a uno dei capolavori della pittura moderna, è una delle massime rappresentazioni dell'orrore di cui è capace l'essere umano. Su questo, sulla base di questo discorso, ecco, dovremmo rinunciare a Rosemary's Baby, uno dei film più belli di Polanski e della storia del cinema. Dovremmo rinunciare forse ad Anime Salve, l'ultimo disco di De Andrè, solo perché era un alcolista, anche lui violento. Ecco, sono accuse che lasciano un po' il tempo che trovano. Alla fine l'artista è assolutamente slegato dalla persona. Noi amiamo l'artista, non amiamo la persona. L'arte è qualcosa che è al di sopra dell'uomo, al di sopra di qualsiasi forma di violenza, di amore. L'arte è qualcosa che è sopra gli uomini, che li racconta ma che allo stesso tempo si eleva dagli stessi, insomma. L'arte deve essere libera di esprimere violenza, come libera di esprimere amore nel modo più viscerale, più vero, più libero possibile, anche perché l'arte ha il diritto e forse anche il dovere di scandalizzare, in certi casi, di smuovere le coscienze, di scuotere un po' noi fruitori ma anche gli artisti stessi. Molto bella è la definizione di moralisti di Pasolini, quando in un'intervista circa Salò o le 120 giornate di Sodoma, che chissà se uscisse oggi cosa succederebbe, definì appunto i moralisti come coloro che non erano disposti a farsi scandalizzare. E in quella stessa intervista parlo anche di come fosse invece fondamentale per l'essere umano essere scandalizzato. L'arte è la più totale forma di libertà, ecco, come dicevamo prima, non ci si merita di essere artisti, artisti si nasce, bravi artisti non si diventa, lo si può diventare attraverso l'acquisizione di competenze tecniche, ma a fini migliorativi, non certo a fini costruttivi per quanto riguarda il talento, artisti si nasce e essere un bravo attore non è un merito, ma è un fatto. Per cui che Johnny Depp venga licenziato per delle vicende personali è assurdo, anche perché a rimetterci è la qualità dell'opera stessa. Allora, un pubblico che probabilmente si definisce anche amante del cinema in questo caso è disposto veramente ad avere un attore peggiore di Johnny Depp solo perché questo ipotetico attore potrebbe essere una persona migliore di Johnny Depp? Davvero? Siamo ridotti così? Bene, sono assolutamente in disaccordo. Un discorso del genere non è assolutamente attuabile e non è un discorso che chi ama l'arte può permettersi di fare. Stiamo vivendo un periodo di regressione culturale notevole a causa di queste dinamiche che limitano produttori, registi, attori nelle scelte di progetti che potrebbero essere potenzialmente dannosi. Questo rovina l'arte stessa e ne snatura proprio la definizione. Perché l'arte non è in alcun modo qualcosa di obbligatoriamente corretto. Anzi, la storia dell'arte ci dimostra che molto spesso i più grandi capolavori sono nati proprio dalle provocazioni e dallo scuotimento delle coscienze che spesso sono andate contro alle opere stesse, rendendole comunque di fatto quello che sono oggi. Un saluto. Un saluto. Un saluto.